Le continue riunioni possono intaccare la produttività e farci sentire sopraffatti. Nello sprint formativo di GoodEviz Basta riunioni inutili, scoprirai come combattere l'eccesso di meeting. Esplora 5 attività che ti aiuteranno ad aumentare il tempo di concentrazione e la produttività. Inizia guardando un video che spiega cos'è il sovraccarico di riunioni e perché si verifica. Impara a identificare i meeting necessari e quelli non necessari in questo articolo. Applica le conoscenze appena acquisite dando priorità, rifiutando e riprogettando le riunioni in 5 scenari. Tuffati in un articolo che spiega come combattere il sovraccarico di riunioni e snellire il calendario. E infine, esercitati a ristrutturare il tuo programma per avere più tempo per concentrarti. Riprendi il controllo del tuo tempo e interrompi la frenesia delle riunioni. Riprendi il controllo del tuo tempo e interrompi la frenesia delle riunioni.